La scuola è la scuola. Quella scorza là. La, 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 la vedete? La, quella scorza di melone. Eh, là. Bra, bra. E adesso un poco più avanti. Eh, più avanti ci stanno quelle carte insevate. Eh, che le robe della signora del terzo piano. Dice che è nobile, è contesta e che non vuol cucinare perché loro le si rovinano le mani. E poi soccate avanzarotte e pallerise e meno tutte le carte fatendo a basso. Bella chiave che è con questa. Ma io non capisco. Ma ci vuole tanto a mettere la monnezza nei sacchetti. Oh, non è questo. È che la gente nasce sporca di costituzione. Sa nasce fatendo. Giovinò, e che state facendo? Eh, voi andate troppo in fretta. Qua bisogna spazzare piano piano, metro per metro. E che fa? Deve ne andate? E qua sta tutt'anno un mezzo in destra. No, no, non vi preoccupate, signor. Torno fra mezz'ora a passare alla cera. Torno fra mezz'ora a passare alla cera. Grazie a tutti